Secondo classificato, Padova Triathlon, Michele Marini Vince, Super Rank 2015, Maniele Gondor-Arcavi Nuovo record italiano, nuovo record italiano Super Rank, 56 gare Rank in un anno Grazie ragazzi, complimenti Siamo anche il primo di categoria di grandissimo Cutelli Il primo categoria Super Rank e il grande De Maio della Carottina di Napoli E' anche lui il primo di categoria, tutti e due che oggi hanno addoppiato, come 26 gare Grazie Antonio Ferrara per la chiusura Grazie 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 Come ho detto prima con il grandissimo vostro presidente e un amico fattore Gara organizzata benissimo, molto bella, dura, ma sempre bella le vostre gare Quindi è un piacere scendere da voi a fare queste gare Per me oggi, vabbè, è un'emozione speciale perché era l'ultima gara Marini non mi ha mollato una gara quest'anno Perché fino all'ultimo vi è stato addosso Ci ha creduto, giustamente Anch'io mi ha mollato Lui qualitativamente, devo dirlo, è molto più forte di me Il Superrain premia la quantità Bravo Io ho fatto più quantità, lui ha fatto più gare di rank Io puntavo anche al record delle 44 gare di superare questo record fatto nel 2008 E ce l'ho fatta e quindi è stata una bellissima L'anno scorso è iniziato il gioco con Cristian Dove lui ha vinto nel 2014 il Superrain, io secondo e Michele Marini terzo E questo quest'anno ci siamo un po' invertiti Io primo, lui secondo e Cristian terzo Un bel gioco e ci rilassiamo E questo è un'ottima storia di Valtriata Grazie a voi